La Confesercenti Napoli ha incontrato i quattro candidati a sindaco principali che si contenderanno la poltrona di primo cittadino del capologo campano il prossimo 5 giugno. Presso la sede dell'Associazione dei Commercianti in via Toledo sono stati ospitati Matteo Bramilla, Movimento 5 Stelle, Valeria Valente per il Partito Democratico, Luigi Di Magistris, sindaco uscente e Gianni Lettieri del centrodestra. È stata l'occasione, ha spiegato Vincenzo Oschiano, presidente di Confesercenti Napoli, di presentare ai candidati le proposte programmatiche sui temi che riguardano il commercio e il turismo nella città e da ascoltare quanto loro hanno deciso di mettere in campo. Di non avere ostacoli, di avere una strada in discesa perché stiamo salendo da troppi anni, abbiamo bisogno di avere defescalizzazione delle tasse che paghiamo perché ne sono troppe, abbiamo bisogno di avere un sindaco che ami la nostra città, abbiamo bisogno di un sindaco che aiuti gli imprenditori del nostro territorio, della nostra città, ad avere le stesse regole, le stesse tasse che pagano i nostri colleghi in altre città. Noi paghiamo per occupazione solo tre volte quello che pagano i nostri colleghi a Milano, tre volte quello che pagano i nostri colleghi a Roma, due volte quello che pagano i nostri colleghi a Bologna. Non è corretto, non è giusto. C'è bisogno di mettere mano al caro fit, c'è bisogno di mettere mano nella ZTL e tutti quelli che sono i trasporti della nostra città. Sono i bilanci del Comune a tenere banco nelle recenti ore di campagna elettorale, tra gli sfidanti del sindaco uscente Luigi De Magistris, la candidata del Partito Democratico e di parte del centro-sinistra Valeria Valente, nel presentare le dieci idee per cambiare la città, è così intervenuta. Dieci punti di merito per tentare innanzitutto di riportare la discussione sul merito delle questioni. Noi vogliamo parlare per le prossime settimane soltanto della nostra idea di Napoli, di quelle che sono per noi le nostre priorità. Mi avete chiesto una su tutte, lo dico per noi, per esempio, il mare, la risorsa straordinaria sulla quale ripartire e con la quale fare ripartire Napoli e disegnare la Napoli nei prossimi anni. Gianni Lettieri, candidato del centro-destra, punta l'accento sui presunti sprechi della giunta De Magistris, come i viaggi all'estero. Ci sono fonti certi, tutti i dati che abbiamo raccolto in questo periodo, io e i miei ragazzi, ho dimostrato che questa amministrazione spreca soldi pubblici in maniera esagerata. C'è chi ha dovuto lasciare la poltrona di sindaco che ha speso per una cena 250 euro e chi invece ha mandato il fratello in una missione per sentire, per guardare una fiera della musica, che per la verità Napoli interessa molto, la fiera della musica e dei dischi, spendendo quattro volte quello che ha speso questo sindaco che è stato allontanato. Il sindaco Luigi De Magistris, intervenendo a margine di un convegno contro l'emergenza contrabbando, ha ricordato l'impegno della sua giunta per legalizzare i lavori ambulanti onesti. Io ho voluto anche ricordare come nella nostra città si cerca di perseguire da parte delle forze dell'ordine, della magistratura e tutte le istituzioni, ogni attività criminale, ma nello stesso tempo anche cercare di portare in un circuito di legalità attività che non sono criminali ma sono magari semplicemente abusive o illegittime, come tanti ambulanti che ci sono nella nostra città e quindi possiamo creare, anche nel far riemergere dal nero verso la legalità, anche opportunità di lavoro. Michele Brambilla del Movimento 5 Stelle è stato il primo candidato a intervenire nel dibattito di confesercenti. Sono un cittadino che abita questa città e mi voglio mettere al servizio con le mie competenze, la mia storia, la mia passione, per cui è proprio l'opposto, i cittadini che tornano a fare politica perché è un'arte nobile la politica. Mettersi al servizio della propria città, le proprie competenze e la propria passione non è un lavoro, è una cosa che uno deve sentire dentro. Il blocco dei contratti nella pubblica amministrazione, i nuovi poteri dei presidi, i tagli del personale ATA e la sperequazione pubblica. Sono questi i temi alla base dello sciopero indetto da Cisle Scuola, FLC CGL, Will Scuola e SNALS, che insieme ai docenti delle scuole della Campania hanno manifestato questa mattina a Napoli. Il corteo, partito da Piazza Dante, è proseguito fino a Piazza Matteotti, dove il segretario nazionale della Will Scuola, Pino Turi, ha concluso la manifestazione sottolineando Non soltanto per dire dei no, ma anche per fare proposte e per rivendicare l'apertura del contratto. Non è concepibile che con tutti i problemi del mondo della scuola si ignori il personale che è bloccato da nove anni senza contratto. La buona scuola è un elemento aggiuntivo. Noi abbiamo detto e abbiamo dimostrato al governo che attraverso la contrattazione si potrebbero anche modificare gli errori della buona scuola. Errori, peraltro, riconosciuti dallo stesso Renzi. Se li ha riconosciuti il governo, perché non ci dobbiamo mettere mani? Oggi lo sciopero è per ricordare al governo che ci sono troppe cose che non vanno nella scuola e comunque in questo paese ci sta una scuola della Repubblica che non si farà privatizzare. Perché il problema principale è anche questo. Le tendenze alla privatizzazione nel mondo della scuola sono inaccettabili. I sindacati si sono schierati dalla parte dei lavoratori precari, chiedendo il pieno riconoscimento di quei docenti che hanno maturato il diritto all'impiego. Inoltre, si vuole attirare l'attenzione su quanto sta accadendo al personale ATA, ignorato dalla legge 107 e la famosa buona scuola, come spiega ai nostri microfoni il segretario generale della CISL Scuola Campania, Rosaria Colonna. La buona scuola non è quella della legge 107. La buona scuola è quella che i lavoratori della scuola hanno sempre fatto. Quella che ha fatto Renzi è un qualche cosa che ha fatto per se stesso e non per sicuramente né i lavoratori della scuola né gli alunni. Siamo in piazza per contestare un contratto che sono sette anni che non si rinnova. Siamo in piazza per dire al signor Renzi che nella scuola c'è il personale ATA, cosa che lui ha dimenticato nella legge 107. Se ne ricorda oggi quando devono presenziare per effettuare il concorso, ma nella 107 non sono menzionati, non hanno avuto il turnover, quindi le emissioni in ruolo, non hanno avuto niente. Una piantagione di marijuana allestita in una villetta è stata scoperta e sequestrata dalla Guardia di Finanza in località Barcaturo a Giuliano. Nei locali c'erano una settantina di piante, alcune delle quali alte oltre un metro, con 57 dispositivi elettrici, tra ventilatori, lampade e deumidificatori, sequestrata a un chilo di marijuana raccolta e pronta per l'esticazione. Arrestati due giovani, 26 e 28 anni, che sono risultati avere la disponibilità di fatto dell'abitazione. Alla mostra d'oltremare di Napoli, presentazione di Tutto Pizza, il primo salone internazionale dedicato al mondo della pizza e al suo indotto. Tre giorni di esposizione dal 23 al 25 maggio, in cui i fornitori di attrezzature, forni, servizi, materie prime, mettono in mostra i propri prodotti e le novità che riguardano il comparto. Alla conferenza stampa hanno preso parte, tra le altre, il presidente e il consigliere delegato della mostra d'oltremare, Donatella Chiodo e Giuseppe Oliveiro, e di la presidente dell'associazione Pizzaioli Napoletani, Sergio Micu, che ascoltiamo. Oggi, finalmente, siamo all'inaugurazione del salone dedicato alla pizza, perché nasce, nasce, perché c'è un'esigenza enorme in quanto in tutti gli altri paesi. Cioè, esistono i saloni dedicati alla pizza e a Napoli non era possibile che non ci fosse un salone dedicato alla pizza. A spiegare l'iniziativa Raffaele Biglietto di Techet Lab, nel corso dell'incontro saranno forniti tutti i dati relativi al giro economico del settore e dell'indotto che deriva dal mondo della pizza e la programma delle iniziative del Trofeo Tutto Pizza e del Contest Pizza Unesco, abbinati alla manifestazione dei convegni e di tutti i numeri della prima edizione di Tutto Pizza. La manifestazione Tutto Pizza è una fiera dedicata esclusivamente agli operatori del settore della ristorazione, in particolare ai pizzaioli. Nel tempo e negli anni si sono avute tantissime manifestazioni, anche di grande successo, dedicate alla pizza, ma dove praticamente i visitatori erano il grande pubblico. In questo caso, la fiera Tutto Pizza è una fiera che vuole collegarsi all'indotto che genera il mercato e il settore della pizza. Gli espositori sono i produttori di materie prime, i produttori di attrezzature, i fornitori delle pizzerie che oggi si stanno evolvendo e hanno bisogno di un aggiornamento e di una ricerca di nuovi contenuti per il futuro del settore. Si terrà sul lungomare di Via Caracciolo a partire da oggi a domenica 22 maggio dalle 12 alle 24, Vinopoli, la città del vino e street food, la chermessa organizzata dalla società Buongiorno Italia, in collaborazione con il gruppo di imprese sociali GESCO per le edizioni napoletane che affianca ai migliori vini delle più importanti aziende italiane, il cibo da strada nazionale e internazionale. L'iniziativa è stata presentata nel corso di una conferenza stampa e si svolge da Piazza della Repubblica fino alla Rotonda Diaz. Vinopoli, il più importante tour del vino in Italia, per la prima volta a Napoli presenta nei suoi stand una verità di brand territoriali con circa 160 marchi aziendali, vini di pregio e vini a tavola che si potranno degustare acquistando i bacchi nell'apposito infopoint dove sarà possibile ritirare la tracolla portacalice. Abbinati a vini ci saranno i prodotti dello street food, reduce dall'enorme successo di aprile al centro direzionale dove oltre 200.000 persone in quattro giorni hanno potuto assaggiare le specialità di diversi paesi del mondo. Protestano per il diritto di voto all'estero le componenti della comunità venezuelana in Campania riunitesi sotto il palazzo del Consolato del paese sudamericano a Napoli. La manifestazione spontanea nasce dalla mancata iscrizione nel registro elettorale permanente letto come un ulteriore inaspiramento dei diritti attuato dal governo Maduro in carica dal marzo 2013, succeduto a Ugo Ciavez alla morte di quest'ultimo. Un problema all'iscrizione al registro elettorale che a detta delle manifestanti è comune in ogni rappresentanza diplomatica del Venezuela nel mondo. Sono problemi politici, per loro non è conveniente farci iscrivere nel registro perché adesso stiamo lottando per avere un revocatorio di un presidente che non dovrebbe essere neanche in carico perché è una persona che non è venezuelana. Maduro è colombiano, quindi per loro non è conveniente che più persone vengano a votare quando ci sarà il revocatorio che ci sarà entro quest'anno. Anche perché la maggior parte dei residenti all'estero sono i cosiddetti oppositori del regime quindi tutti quelli che stanno all'estero ovviamente voteranno contro Maduro appunto perciò non vogliono aprire registri, quindi diciamo che questi sono i problemi fondamentali. È stato chiuso il Consolato a Miami proprio per far sì che i venezuelani all'estero non potessero votare noi non ce la facciamo più, siamo veramente arrivati al degrado. Il Venezuela è un paese ricco, quarto produttore di petrolio al mondo non è possibile che si trovi in questa situazione. Però non è un problema solo del Consolato di Napoli. Lì dove ci sono i consolati venezuelani in tutto il mondo sono stati ostacolizzati. Praticamente dei 10 venezuelani uno è votante, il resto non vota perché non sono iscritti nel registro elettorale e oggi ci siamo radunati qui la comunità venezuelana di Napoli per protestare per un diritto che ci appartiene. Noi stiamo qua pacificamente venezuelani in Italia all'estero per chiedere il nostro legittimo diritto a essere iscritti nel registro elettorale permanente. Ogni consolato del Venezuela nel mondo ha il dovere di scrivere ogni cittadino perché il registro elettorale è di carattere pubblico e permanente. Noi qui pacificamente stiamo chiedendo questo diritto perché alcune persone sono state ostacolizzate e poi perché vogliamo legittimamente fare il nostro diritto al voto nelle prossime elezioni che ci sarà già il popolo venezuelano ha chiesto il referendum revocatorio. Un'estate all'insegna dell'intrattenimento e della creatività. Città della Scienza lancia il Movies Music and Stars, una rassegna cinematografica che vedrà proiettati nell'arena cinema della struttura ben 32 film tra anteprime e premi internazionali. Organizzati anche un villaggio musicale e lo street food basato sulla dieta mediterranea che animeranno Bagnoli dal 31 maggio al 31 luglio in tutti i weekend. Così il consigliere delegato di Città della Scienza Vincenzo Lipardi. Bagnoli è un luogo vivo e appunto questo è anche un auspicio che un progetto di riconversione che deve guardare soprattutto la parte industriale per portare buono lavoro a Napoli fondamentalmente possa ripartire. Nel frattempo appunto questi due mesi estivi avremo questa bellissima rassegna cinematografica 4 esclusive nazionali, 30 film e poi tanta musica di qualità. Insomma un modo per stare assieme, per gustare e per imparare perché poi il cinema è anche questo e per fare appunto comunità. Insomma è un modo per valorizzare Bagnoli, valorizzare Napoli e appunto mostrare che questa è una città che vuole vivere. Una formula attuata per avvicinare il pubblico al grande cinema e chi vedrà ospiti importanti fra i protagonisti degli stessi film proiettati e personalità del mondo del calcio, della musica e della scienza. A spiegare i dettagli Valeria Aiello, organizzatrice della rassegna cinematografica. La rassegna cinematografica si intitolerà Movies, Music e Stars proprio perché noi avremo appunto un'arena cinema, un villaggio street food e poi anche alcuni ospiti locali per un trattenimento musicale o comunque di spessore. Dobbiamo restituire appunto a Bagnoli questa grande arena che purtroppo è rimasta in disuso per diverso tempo che conta 1300 posti e quindi vogliamo dare appunto la possibilità al pubblico di godere di film all'aria aperta sotto le stelle per questo abbiamo appunto nel titolo Stars e Stars anche inteso come appunto degli ospiti comunque di spicco sia protagonisti del cinema ma anche appartenenti insomma a tanti altri settori. Grazie a tutti! Grazie a tutti!